le parole in cento parole commetto il vangelo di martedì 27 settembre 2022 a cura di fra simone i discepoli vorrebbero vendicarsi perché i samaritani non hanno risposto all'amore di dio è quello che accade anche in noi quando non c'è risposta al nostro amore quando avvertiamo la chiusura che fa naturalmente parte della libertà di tutti allora ci blocchiamo il grande atteggiamento di gesù è quello di amare nell'impotenza amare quando l'amore non è corrisposto amare anche quando non è accolto noi preferiamo fermarci davanti alla non risposta non desidera amore non glielo do gesù infrange le nostre barriere per dirci questo amore che non si ferma davanti a nulla continua ad amare accettando anche il rifiuto gesù continua ad amarci anche quando noi ci accontentiamo di un amen detto in fretta